Come si può dire, questo piegare il display nelle due direzioni, quindi possiamo zoomare, possiamo tornare indietro, torniamo indietro, così ci muoviamo avanti, così ci muoviamo indietro, davvero interessante come sistema innovativo di interazione con un device, un'innovazione davvero carina, vi faccio vedere proprio anche la velocità di interazione, semplicemente con un twist, quindi con una torsione oppure con una flessione del display.